e ciao a tutti in questo video vedremo come poter ottenere monete dei favori del potere attraverso il completamento del contratto la concubina per attivare questo contratto vi basterà andare all'interno del rifugio degli assassini e dopodiché interagendo con il pannello dei contratti vi basterà attivarlo lo troverete proprio tra i vari contratti una volta fatto ciò però come potete leggere ci sarà l'obiettivo di non subire danno nel video che seguirai vi mostrerò come poter completare sia ovviamente il contratto ma anche come poter completare questo obiettivo come consiglio ovviamente vi farò vedere anche sulla mappa dove si trova l'obiettivo di questo contratto ma successivamente sempre attraverso la mappa la direzione proprio che andremo a compiere ossia aggirando le mura di questo edificio raggiungeremo una zona proprio adatta per poter entrare diciamo in modalità stand comunque ragazzi vi lascio al resto del video in in cui vedrete proprio i vari passaggi e come poter completare questo contratto spero che il video vi sia stato di aiuto come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale mettere mi piace al video se vi è stato di aiuto ma soprattutto ragazzi ve lo dirò per sempre a scrivere un invito a scrivere qua sotto nei commenti se avete bisogno date aiuti e te già ragazzi buona visione la sua madre misericordiosa aiuto e passo forse è per questo che la risposta sono solo di passaggio guardare in ogni anno lo dico sempre lascia attraverso la legge a occuparsi di lui guardare in ogni anno Oh, che c'è uno? Un momento. Voi, ribelli, vi darete una calmata. Dite! Grazie. 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 Grazie.